Sono telegrafica perché i risultati del semestre italiano sono evidenti, forse a Guidesi sfugge che abbiamo ottenuto i mangi di flessibilità, abbiamo ricominciato a parlare di crescita e di lavoro, Guidesi, la verità è questa, abbiamo finalmente una corresponsabilità dell'Europa sull'immigrazione, cosa che prima non era mai avuta. I risultati li avete avuti voi con il trattato di Dublino, il business è l'immigrazione che ha sbagliato, vi siete inventati. La memoria ce l'avete corta, Dublino l'avete firmato voi. Dublino serviva Morani quando è stato firmato, Dublino serviva, non l'avete cambiato voi nel 2013 quando dovevate cambiarlo. Scusate avete evocato l'immigrazione, ma no, non sono balle che raccontiamo, è la verità storica di questo paese di cui purtroppo voi spesso non avete memoria, ma di cui siete responsabili. Sì, bravo, vai in mezzo alla gente a dirglielo. Ma infatti è anche in mezzo alla gente a dirlo. Allora, non gestite bene il sistema dell'immigrazione, bravi. Voi chiacchierate molto però quando era di fare i fatti poco. Ragazzi uno alla volta per carità, come dicevano... L'attribuzione dei 40.000 profughi non mi pare una cosa irrilevante. Sì, si è visto. Si l'ha ottenuta, l'abbiamo ottenuta noi. Siamo arrivati, ne distribuiamo 40.000. Intanto fate mangiare le cooperative col sistema dell'accoglienza. Questo è quello che vi siete inventati voi. Allora, lasciamo lo genio, i macchi, la domina, la domina, la gente che non mi viene la proposta. Però ho pagato, avete alloggio agli immigrati carrivi. Noi 10 o 6, nessuno parla a propagare.